Allora, chi conosce questo canale e anche come ragioniamo, sa benissimo quante volte mi sono trovato a dire che mi sembra proprio che la community ha sempre visto la saga di Egghead come una saga in dirittura d'arrivo. E questo succede da due anni, praticamente. Ecco, c'è da dire che per la prima volta, oh, mi sento di dirlo ragazzi, la saga è nella fase finale. Questa volta, per davvero, credo che l'ultimo capitolo apra veramente, a quella che è veramente la parte finale. Avevo già accennato un po' a questo concetto nel commento del capitolo, ho visto che molti di voi sono d'accordo effettivamente su questo concetto. E quindi cerchiamo di fare un po' un'infarinatura di quella che dovrebbe essere, secondo me, la parte finale di One Piece e perché. Allora, intanto il perché. Ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di una parte ancora ignota, perché noi fino a questo momento abbiamo cercato di ragionare su questa saga con una saga che andasse di pari passo col videomessaggio. Videomessaggio interrotto, ma l'ultimo capitolo della realtà ci fa capire con esattezza che la fuga, nonostante tutto, è impossibile. Non perché i Gorosei sono troppo forti, potevamo lasciarli lì, ma perché uno di loro addirittura vola, quindi o riusciranno a sconfiggere i Gorosei, e non credo, perché abbiamo visto che Luffy in Gear 5 comunque, fortissimo, eh, ma non fa nessun danno ai Gorosei, oppure si troverà qualche soluzione. Oggi andiamo ad esplorare quella che secondo me dovrebbe essere l'ultima parte di Egghead in tre punti principali, quindi il video è diviso in tre parti, come al solito, ragazzi. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace, in particolare vi ricordo anche di attivare la campanellina, perché soltanto l'11% degli iscritti ha attivato la campanellina, in realtà da quello che vedo è normale nella media di un canale YouTube, però attivate la campanellina, ragazzi, così non vi perdete i nostri contenuti che siano legati al capitolo o non, sapete che comunque in realtà la maggior parte dei contenuti sono legati al capitolo, novità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, attivate la campanellina e io direi che possiamo cominciare e partiamo dal primo concetto che io vorrei esplorare in assoluto, ovvero il robot gigante. Nonostante tutto io credo che il robot gigante sarà ancora un protagonista di quest'ultima parte di Egghead e soprattutto secondo me è interessante partire dall'ultima volta che vediamo questo personaggio, quindi nel momento in cui va sotto l'acqua, quindi nel momento in cui viene scaraventato via da Igor Osei. Secondo me il capitolo è anche abbastanza interessante su questo gigante d'acciaio e ho notato che molti di voi in realtà sono rimasti delusi per l'utilizzo del robot, io però credo di dire proprio tranquillamente che per come è impostata l'ultima parte di capitolo, in particolare io penso veramente all'ultimissima vignetta, per me è come se fosse una conferma che sto robot lo vedremo, ma proprio a breve lo rivedremo. Perché dico questo? Perché ragazzi, cioè nel momento in cui dice finalmente eccoti qua, è come dire ok Ressos ha un senso per me ritornare in superficie, anche perché noi abbiamo visto, e qua potremmo anche cambiare un po' la nostra opinione che ci siamo fatti in questi mesi, che forse sto robot non è che ha bisogno di energia, lui ha solo bisogno di sentire il battito per interessarsi a muoversi. Perché dico questo? Perché spesso e volentieri quando noi abbiamo visto la trasformazione Nika di Luffy, quindi il battito del cuore e quindi tamburi della liberazione, abbiamo visto sto robot muoversi. Nello scorso capitolo, non in questo, non nel 1918, ma nel 1117 abbiamo visto che si muoveva anche quando Luffy era tornato nella sua forma normale. Detto questo, anche in questo capitolo qua, prima che Luffy si trasformi vediamo che certo torna in acqua, però comunque è cosciente, sta pensando a qualche cosa, quindi è come se fosse comunque attivo. Però, sembra essere triste, perché dice che è strano, eppure l'avevo sentito, mi sembrava di averlo sentito e pensavo fosse il momento giusto per incontrarlo finalmente. Quindi è come se lui avesse bisogno di avere un motivo per muoversi. Nell'ultima vignetta risente questo tamburo della liberazione, i tamburi della liberazione, uso il plurale anche perché in realtà ne sente due, perché c'è anche quello di Bonnie, e quindi credo che sia il momento adatto per lui di risalire. Per quanto mi riguarda, questo robot gigante potrebbe fungere tranquillamente, intanto come un nuovo flashback, e quindi magari l'ultimo flashback di saga, perché secondo me poi non ci sarebbero più dei flashback necessari. Perché attraverso di lui, magari attraverso i pensieri di uno dei nomi di Mondiale, in particolare di uno dei Gorosei, potremmo vedere effettivamente cosa è successo 200 anni fa. Un flashback attraverso la memoria dei Gorosei secondo me può essere interessante, e credo che sia l'unico modo in cui possiamo vederlo effettivamente, questo flashback, se lo vedremo ad Egged, perché, non lo so, a meno che Oda non voglia veramente andare all-in sul discorso robot, che ha dei sentimenti, che ha una memoria, che ha una mente, quindi magari il flashback approverrà dei suoi ricordi, magari lo vedremo attraverso i Gorosei. Quindi sicuramente può servire per questo, per allungare ancora un po' la saga sotto questo punto di vista qui. Ma secondo me può essere molto molto utile per fermare i Gorosei. Se i Gorosei, in un modo o nell'altro, inseguiranno sempre i Mugiwara, allora serve qualcuno che li tenga lì. Il robot, va bene, lo possiamo spostare con Elbaf, con la nave di Elbaf, e lo portiamo ad Elbaf, va bene. Ok? Però allo stesso tempo, ragazzi, qualcuno che tenga fermo i Gorosei, secondo me, serve. L'ultimissimo punto su cui, secondo me, dovremmo concentrarci in questa parte finale, è una possibile ritrasmissione del video messaggio di Vegapunk. Io non demordo, cioè, secondo me, questo video messaggio può tranquillamente ritornare. Un po' perché Oda queste cose le fa, cioè, sembra veramente di concludere, ci fa sembra, effettivamente, che ci fa capire che le cose vengono concluse, magari con un solo colpo, e poi il personaggio torna o la questione ritorna. In questo caso tornerebbe il personaggio, secondo me al 90%, vista la scena finale, dovrebbe tornare, però, secondo me, può anche riscalare tranquillamente la costa e tornare, e quindi anche la trasmissione potrebbe tornare. Perché dico questo? Due motivi. Uno, credo di averlo già accennato nel commento al capitolo, l'altro, invece, me l'ha fatto notare uno di voi nel video dei commenti. Primo motivo, e questo è quello che ho già accennato, tra l'altro viene... vabbè, poi vi spiego anche il perché, ricalco un po' questa cosa. È stato confermato da Oda che in realtà i lumacofoni non sono dei macchinari, proprio per niente, in nessun modo, non sono neanche dei cyborg, sono proprio delle creature che prendono delle trasmissioni. Quindi andare in acqua per un lumacofono non vuol dire rovinarsi, non vuol dire rompersi, come sarebbe per un trasmettitore vero, ok? E questa cosa, tra l'altro, piccolo spoiler, ve lo dico, ve lo volevo tenere nascosto, la dice in un SBS, è praticamente pronto il video in cui andiamo a riassumere tutti gli SBS più importanti, ma di questo magari ne parliamo tra qualche settimana, perché poi c'è anche il montaggio e la registrazione. E quindi questo è importante, vuol dire che la trasmissione si è interrotta perché è andato sotto il livello del mare, ok, se dovesse tornare il lumacofono non si è rovinato, e quindi il lumacofono potrebbe continuare il suo discorso. L'altra cosa che citava uno di voi, tra l'altro, nei commenti, e secondo me è una cosa estremamente interessante, noi vediamo che la trasmissione non si è interrotta nel capitolo, noi vediamo che Vegapunk ha continuato a parlare. Certo, Oda poteva tranquillamente concludere la trasmissione proprio nel momento in cui Vegapunk ci stava per rivelare il segreto della D, proprio il significato della D, ma giustamente non è il momento perché quel momento sarà l'Aftail e quindi era giusto per lui interrompere la comunicazione. Se però il robot tornasse su, magari, magari veramente il video riprenderebbe da Vegapunk e ha concluso quel discorso. Quindi Vegapunk potrebbe continuare con il suo discorso, lasciando ovviamente il mistero totale sul discorso della D, e secondo me ci sta proprio per quel discorso che vi ho fatto su Laftail, e riprendere con un altro argomento. Il motivo per cui, e questo è una cosa che ho letto diverse volte nei commenti, e io sinceramente sono d'accordo con voi questa volta, ovvero il motivo per cui secondo me il videomessaggio non è finito, è che Vegapunk ha aspettato apposta dieci minuti per far prendere il videotrasmettitore a tutto il mondo. Quindi non bastava solo la sua voce, voleva anche mostrarsi in qualche modo. E al momento lui non ha mostrato nulla. Quindi, vuole far vedere qualcosa? Può essere, ha senso. Oppure Oda nel buio del suo ufficio non aveva idea di come creare un countdown per darci un po' di suspense, per fare qualche cliffhanger tra un capitolo e l'altro. Ho una cosa, ho l'altra. Io sono dell'idea che qualcosa vorrà mostrare, e quindi la trasmissione potrebbe riprendere proprio per questo. Quindi, il robot gigante per me avrà questi ruoli qui. Per quanto riguarda il secondo elemento, io lo riassumerei in una sola parola, una parola plurale, ovvero i giganti. Sì, perché se ci pensiamo bene, i giganti ormai sono entrati proprio nella saga di Egg a gamba tesa, ma allo stesso tempo non è che hanno avuto sto ruolo importantissimo. Al momento credo proprio che i giganti possono dare un pochettino di più. E quando dico che possono dare un pochettino di più, mi sa, mi sa che è arrivato proprio il loro momento. Vederli combattere al 100% e capire effettivamente quale sarà il loro ruolo, perché arrivare solo con una nave per adesso hanno fatto solo quello praticamente, poi hanno dato una piccola mano a Luffy, che in realtà non è servita a quasi niente, perché neanche Luffy è riuscito a danneggiare più di tanto i Gorosei. Anzi, non gli ha danneggiati praticamente. Tra l'altro, la nave, insomma, ci siamo concentrati su questo nel commento del capitolo, ma Oda fa finta di niente, cioè è stata bucata nel 117, è stata proprio messa in fiamme nel 118, ma cosa dobbiamo fare di più a sta nave? Facci vedere che l'affondiamo e poi è finita. Anche perché far rovinare questa nave, poi uno di voi ha scritto un commento intelligente e mi ha fatto anche sorridere, però è giusto, cioè c'è Frenkie, quindi Frenkie potrebbe sistemare la nave di Elba, che è anche vero. Però, se sta nave viene danneggiata, allora sapete cosa vuol dire? Vuol dire che i giganti, semplicemente, poi, non hanno più un posto in cui andare. Ecco, se non hanno più un posto in cui andare e rimangono lì, allora proprio il loro sacrificio è proprio chiamato da lontano da parte di Oda. E tra l'altro qua si ricollega anche a un discorso che abbiamo fatto prima, cioè il robot gigante, ha senso di esistere anche per un ipotetico sacrificio. Anche i giganti a questo punto hanno senso di esistere per un ipotetico sacrificio. Per loro io non mi aspetto più, sinceramente, un, non lo so, un grandissimo flashback, un grande reveal che possono dare alla saga, ma anche un grande combattimento uno contro uno. Mi aspetto qualche sacrificio da loro. Mi aspetto che proprio seguino al 100% la filosofia di Nika, che sapendo che serve al mondo, allora dicono, ok, perfetto, voi dovete andare. Tanto la nostra nave magari non c'è più, perché magari, a questo passo, la nave affonda. È stata messa in fiamme, è stata bucata nel centro del 1117, manca solo veramente che esplode una bomba nucleare, e la nave non c'è più. Se la nave non c'è più, allora il sacrificio è essenziale, è necessario anzi, perché tanto non hanno veramente dove andare. E quindi io, sinceramente, mi aspetto una roba del genere. Per questo motivo qua, quindi sia per la nave, anche per il fatto che, come abbiamo detto, i Gorosei devono essere affrontati e tenuti lì, perché altrimenti questi continueranno a inseguirli fino ad Elbaf, perché abbiamo un Mars che può volare e può andare dove vuole, può inseguire anche la nave quando e come vuole. E in più, questo è anche un discorso che abbiamo fatto nel commento del capitolo, ragazzi, se noi abbiamo i nuovi pirati giganti, che fanno parte, tra l'altro, della flotta di Luffy, sarebbero ingombranti i vecchi pirati giganti, effettivamente, nella grande flotta, anzi, nel grande mondo di One Piece, perché al momento non sono nella flotta di nessuno, teoricamente forse, di Shanks. Abbiamo i pirati che hanno rifondato questo gruppo, e poi ci sono i pirati vecchi che sono tornati. Anche per il concetto di ricambio generazionale che in One Piece c'è spessissimo, io mi aspetto che a fine saga questa ciurma semplicemente non esista più. Anche perché, e questo è l'ultimissimo concetto che cerca di giustificare un'ipotetica morte di questi pirati, mi dispiace per loro, ma effettivamente io ragiono in questo senso. Vi dico, se noi arriviamo ad Elbaf, e anzi, i Mugiwar arrivano ad Elbaf accompagnati da sti pirati che sono famosissimi, sono importantissimi nell'isola, secondo me avremmo una saga poco interessante. Cioè, molte delle cose interessanti delle saghe provengono proprio dall'esplorazione, dall'avventura. Cioè, loro arriverebbero accompagnati da dei giganti, tra l'altro da un bel gruppo dei giganti, che gli spiega effettivamente cosa fare, cosa non fare, gli ospita pure, gli ospita tranquilli. Quindi zero suspense, zero pericoli, niente di niente, zero avventura. Poi, per carità, ci sono saghe in cui non c'è l'avventura, tipo Zoo. Tipo Zoo non c'è avventura. Poi vediamo in realtà una parte di avventura, però, perché c'è tutto il discorso di Jack, anche se lo vediamo tramite flashback praticamente. Però, ecco, non lo so, la saga di Elbaf forse inizierebbe col piede sbagliato. E quindi io mi aspetto un bel addio per quanto riguarda i giganti, sia della loro nave che della ciurma in sé. E quindi la fuga potrebbe avvenire tranquillamente sulla Sunny e basta. E sulla Sunny non c'è spazio né per nessun gigante, né per il robot gigante. Potrebbero stare tutti quanti sull'isola. L'ultimissimo punto, ultimissimissimo punto, che sarà essenziale, secondo me, nei prossimi dieci capitoli, perché io credo che veramente mancano circa una decina di capitoli, forse anche meno, capitolo più, capitolo meno, è proprio Kizaru. Io spesso, quando magari parlo con voi su Telegram, o anche attraverso i video, mi domando e vi domando, ma uno come Kizaru, sinceramente, secondo voi, ma resterà in panchina per così tanto tempo? Proprio ve lo chiedo sinceramente. Allora, su Kizaru ci sarebbero due discorsi da fare. Intanto, se adesso Oda lo volesse far ritornare in piedi, e secondo me è necessario rivederlo, perché non è possibile che sto personaggio per metà saga sta sdraiato. Va bene tutto, per carità di Dio, ma l'abbiamo già visto sdraiato. Poi, mo, ancora adesso, così steso su una nave, ok, cerchiamo di far qualcosa di più. Cerchiamo di non umiliare gli ammiragli, che poi quando arriviamo alla guerra finale, la gente dice, gli ammiragli, va che sta roba, io voglio vedere solo Im e i cavalieri sacri. No, gli ammiragli, secondo me, devono essere importanti. Cerchiamo di mostrare la potenza di sto personaggio. Già l'ha dimostrato, secondo me, combattendo contro Luffy. Secondo me, ad armi pari, so che molti di voi non sono d'accordo, ma secondo me, ha veramente dimostrato di essere molto, molto forte. E facciamolo tornare in piedi, per un'ultima cosa. Perché, ne so, distruggere la nave dei giganti. Ecco una cosa che io mi aspetto. Io mi aspetto in una roba del genere. Anche perché, cioè, vogliamo rendere la saga un po' più salata, soprattutto il finale. Perché il finale, noi stiamo per vedere, un finale in cui i Mugiwara devono scappare. Solitamente i finali, in realtà, vedono la conclusione vera e propria della One Piece, quindi il villain che viene abbattuto è la festa finale. Qua non è così. Però comunque, il finale è sempre qualcosa di estremamente movimentato. È vero che i Gorosei già movimentano moltissimo il discorso. È vero che non ci sono solo i Gorosei, ma ci sono anche i giganti, che vabbè, non faranno, fanno poco e niente alla fine dei Gorosei. Ed è vero che c'è una Bond in questo momento che ha la trasformazione in Nika, ovviamente al netto di alcuni limiti che potrebbe avere, magari a livello di tempo, di energie, eccetera, eccetera, eccetera. però se dovesse arrivare Kizaru, allora le cose qua cambierebbero per davvero. Un Kizaru che magari si rende conto di aver ammazzato Vegapunk. Un Kizaru che parla con Bonnie. Ecco, abbiamo due Nika, cerchiamo di aumentare anche gli avversari. Facciamo arrivare gli altri Gorosei, facciamo arrivare anche Kizaru. Anche perché io vi ricordo una cosa su cui ci concentravamo tantissimo all'inizio della saga. All'inizio della saga, non so se vi ricordate questa cosa, insieme avevamo ipotizzato dell'arrivo di Kizaru per un piccolo elemento. Noi avevamo ipotizzato dell'arrivo di Kizaru perché? Perché Atlas menava gli ologrammi attraverso dei guanti che facevano menare la luce. Uso menare proprio come termine tecnico, eh. Cioè lei riusciva a tirare sti pugni agli ologrammi e sfogarsi quindi perché aveva questi guanti speciali. E noi partendo da questi guanti abbiamo detto non è che arriva Kizaru in questa saga e è arrivato Kizaru ora. Se Oda ci ha messo quei guanti lì per farci capire guarda, forse forse arriva Kizaru noi dovremmo interpretarli in un altro modo. Oda ci ha messo quei guanti lì e ci ha dedicato una spiegazione di due vignette apposta su quei guanti perché poi, prima o poi, in questa saga, li rivedremo e li rivedremo contro Kizaru. Ancora non li abbiamo visti perché per il momento Kizaru ha affrontato degli esseri, anzi, uno, un essere in particolare, ovviamente Luffy che sa usare l'Aki quindi i guanti a lui non servono. Quei guanti lì però li abbiamo visti usare da Atlas. Atlas ora è sulla nave dei giganti. Ecco, Atlas potrebbe andare uno v uno contro Kizaru almeno per un breve tempo per poi essere magari sconfitta. Perché se ci hai messo quei guanti lì per farci capire che arriverà Kizaru o per sottolineare la loro importanza che prima o poi verranno usati e allora prima o poi li devi usare. Prima o poi li devi usare e ancora non sono stati usati. E questa anche è un'altra cosa che mi fa pensare all'arrivo di Kizaru e l'ultimissima cosa che riguarda il discorso Kizaru è quando all'inizio della saga parlavamo dell'arrivo di Kizaru tra l'altro noi parlavamo dell'arrivo di Kizaru ma Saturno ancora non sapevamo sarebbe arrivato. Figuratevi gli altri Gorosei. Perché era interessante per noi? Perché è da facciamo dieci anni che girano le teorie su questo cavolo di nuovo ammiraglio. Per il discorso colori primari tutti gli ammiragli prima avevano i colori primari ora due su tre hanno i colori secondari l'unico che è rimasto così è Kizaru. Appena la maggior parte della community ovviamente non è che io ma moltissimi di voi anche quando hanno visto che stava arrivando solo Kizaru hanno detto boh perfetto allora questo è il momento di farlo cadere. Ora Kizaru non è morto è lì rimasto sconfitto io mi aspetto la morte di Kizaru e quindi mi aspetto un Kizaru che torna mi aspetto un Kizaru che debba affrontare qualcuno con questi cavolo di guanti e mi aspetto un Kizaru che cade definitivamente o che dà le dimissioni o che crepa. Così e basta questo devo dire di Kizaru. Ragazzi io direi che questi sono i tre elementi principali per la parte finale di Egghead ovviamente io mi aspetto qualcosina anche di Kuma come vi ho detto mi aspetterei anche che la trasmissione riprenda e quindi questi piccoli elementi vi ho voluti lasciare perché secondo me i tre principali sono proprio Robottone Giganti e Kizaru. Questo è ragazzi mi raccomando come al solito commentate qui sotto fatemi sapere che cosa ne pensate di queste di queste mie opinioni mi raccomando fate i bravi e noi ci vediamo prestissimo come sempre con altri video a tema One Piece. Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao io bene Ciao ragazzi